Ultima fase, rimontaggio delle viti sulla scocca, tirate bene ma non troppo, quando sentite che dura, fermatevi, non esagerate. Il montaggio della batteria, della scocca posteriore, della sim, e ora la prova della verifica, l'accensione. Verifichiamo se tutto è andato a buon fine, ecco, con questa videata si dimostra che il telefono è perfettamente funzionante. Galaxy S2.